cari amiche oggi un nuovo tutorial diverso andiamo a realizzare gli alberelli di natale con il punto jasmine questo punto insomma devo dire che molto ve lo chiedete perché è difficile da comprendere ma vi dico per realizzare questi alberelli in maniera di prendere un pochino di confidenza con questo punto andiamo a realizzarli con l'uncinetto 4 qui ancora devo fare diciamo la parte sotto dell'alberello così poi la facciamo insieme allora io vado a realizzare gli alberelli con un acrilico 100 per cento e vi faccio le questo è abelio unito ma possiamo utilizzarlo anche con il lurex per cui abelia lurex e questo il rosso è un acrilico con il 40 per cento di top acrilico 60 per cento di poliomide a 440 metri i ferri dal 2 mezzo 3 uncinetto dal 2 al 2 e mezzo ma noi andiamo a lavorare con il 4 perché ci occorre un pochino un pochino più vaporoso però ci sono diversi colori vi faccio vedere c'è il verde tutti i colori che preferite sempre di realizzarli bianchi oppure altri colori insomma sfumati come preferite o potete o potete scegliere anche un altro colore questo invece è quello ecologico se preferite un filato ecologico vi do subito questo ecologico questo è il color corteccia melange allora un filato ecologico al 90 per cento agrilico 10 per cento di altre fibre 310 metri consigliano i ferri dal 4 a 4 e mezzo uncinetto dal 3 al 3 mezzo questa anche un'altra alternativa allora iniziamo subito il nostro il nostro progetto facilissimo da realizzare questo alberello di natale allora io ho preso questo tutto già insomma l'etichetta abelia lurex che mi piace tanto questo rosso è veramente una bellissima tonalità allora iniziamo il progetto con uncinetto quattro vado a realizzare prima un nodo tiro bene il filo adesso realizzo una catenella ora iniziamo il nostro punto allora è facilissimo non vi dovete insomma creare problemi per quanto riguarda tirare il filo allora andiamo a tirare un pochino un filo e a un centimetro un centimetro e mezzo prendo il filo e iniziamo con il primo punto riprendo il filo il secondo riprendo il filo il terzo riprendo il filo e il quarto adesso devo passare il filo su tutte queste asoline allora prendo di nuovo il filo e lo vado a bloccare con l'indice vedete lo blocco perché poi lo devo lavorare con l'uncinetto passo su tutte le asoline entro dentro la solina che abbiamo bloccato realizzo una catenella prendo il filo e vado a chiudere possiamo tirare un pochino in maniera di chiudere abbastanza l'anellino centrale ecco qui proseguiamo adesso di nuovo tiro il filo prendo il filo sempre con l'uncinetto entro in questo vedete questo forellino che si è formato entro e vado a lavorare il primo riprendo il secondo riprendo il terzo riprendo il filo riprendo il filo e il quarto di nuovo metto il filo sull'uncinetto e vado a bloccarlo con l'indice in questo modo lo faccio passare sulle tutte le asoline prendo il filo realizzo una catenella riprendo il filo e vado a chiudere tiro in maniera di poter bloccare tutto il filato e vado di nuovo a lavorare diciamo che questo dobbiamo dobbiamo avere quattro quattro di questi insomma punti che stiamo realizzando adesso un pochino scusate allora adesso iniziamo tutto quanto da capo ho preso il filo entriamo nella solina e vado a lavorare il primo il secondo il terzo e il quarto prendo il filo e lo vado a bloccare con l'indice lo faccio passare sulle asoline rientro sulla solina che abbiamo bloccato realizzo realizzo una catenella e vado a chiudere di nuovo prendo alzo prendo il filo lo passo sulla solina 1 2 3 e 4 prendo di nuovo il filo lo vado a bloccare con il pollice link indice faccio passare il filo rientro sulla solina che abbiamo bloccato la solina e vado a chiudere tiro un pochino il filo e ne abbiamo realizzati quattro ora dobbiamo andare a realizzare l'angolo per cui andiamo da questa parte forse si vede meglio ecco così 1 2 3 e questo è 4 adesso andiamo a realizzare l'angolo ripetiamo di nuovo come abbiamo realizzati quattro vado a ripetere di nuovo per cui 1 2 3 e 4 rilascio sospesi sull'uncinetto vado in quella successiva alla solina successiva spero che si vede bene la solina successiva prendo il filo e vado in quello successivo 1 2 3 e 4 adesso riprendo il filo e vado a bloccare di nuovo bloccando di nuovo vado a far passare il filo su tutte le assoline rientro sulla solina che ho bloccato catenella e li vado a chiudere tiro un pochino il filo e abbiamo realizzato l'angolo adesso dobbiamo realizzare il resto come facciamo sempre nello stesso modo tirato un pochino il filo ecco qui ripeto di nuovo proprio qui quello che abbiamo chiuso che abbiamo chiuso lo vado di nuovo a lavorare per cui 1 2 3 e 4 adesso non vado a chiudere vado in quello di base quello che abbiamo lavorato poco fa per cui quello di base prendo il filo e vado a lavorare 1 2 3 e 4 lascio ancora in sospeso e vado in quello successivo prendo il filo vado a lavorare 1 2 3 e 4 adesso prendo il filo qui bisogna fare attenzione vado a bloccare con l'indice e vado a passare l'uncinetto su tutte le asoline in questo modo qui abbiamo il filo bloccato e ci vado a passare l'uncinetto per cui faccio sempre la stessa chiusura passo la passo il filo e poi vado a chiudere tiro leggermente ecco qui e abbiamo costruito con i nostri punti adesso di nuovo ritiro il filo prendo di nuovo il filo vado a lavorare 1 2 3 e 4 adesso di nuovo alla base dove l'abbiamo già lavorato per cui alla base prendo il filo e vado a lavorare 1 2 3 e 4 vado in quello successivo di nuovo quello successivo e vado a lavorare 1 2 3 e 4 adesso riprendo il filo e vado a bloccare con l'indice il filo vado a passare il filo su tutte le asoline passo sulla solina che abbiamo bloccato realizzo una catenella e vado a chiudere tiro il filo in maniera che non ci sia una solina troppo troppo grande tirato il filo ok e abbiamo terminato adesso proseguiamo ancora proseguiamo vedete si sta formando bene proseguiamo tirato il filo riprendo e di nuovo 1 2 3 e 4 riprendo il filo in maniera che non mi fa attenzione vado in quello sottostante di nuovo sottostante quello che abbiamo appena lavorato per cui 1 2 3 e 4 prendo il filo e vado all'ultimo dove c'è la catenella 1 2 3 e 4 prendo il filo vado a bloccarlo con l'indice lo passo su tutte le asoline entro nella prima asolina che abbiamo bloccato passo l'uncinetto e poi vado a chiudere tiriamo bene il filo ecco qui abbiamo fatto il primo passaggio vi dovete trovare 123 diciamo dei punti puff proprio qua qua centrali per cui adesso andiamo a proseguire il nostro punto giro il lavoro prendo il filo prendo il filo entro sotto 1 2 3 e 4 andiamo in quello successivo perché il primo è sempre di 23 e 4 e vado a chiudere blocco sempre con l'indice poi prendo bene il filo e blocco con l'indice vado a passare entro nella solina è sempre lo stesso e vado a chiudere tiro bene il filo adesso proseguo vi faccio la stessa cosa che abbiamo fatto diciamo alla parte sotto i primi due sono sempre due non ne sono tre adesso vado a realizzare 1 2 3 4 e ci fermiamo vado in quello che abbiamo lavorato quello sottostante 1 2 3 e 4 vado in quello successivo 1 2 3 e 4 adesso vado a chiudere prendo il filo lo vado a bloccare sempre con l'indice e il pollice passo su tutte le asoline entro nella solina che ho bloccato catenella e vado a chiudere tiro bene il filo adesso ricominciamo di nuovo prendo il filo e riconto 1 2 3 e 4 senza prendere il filato di sotto ecco qui 4 adesso vado qui ho preso il filato eccolo 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 prendo il filo e vado in quello successivo 1 2 3 e 4 vado poi ancora in quello successivo 1 2 3 e 4 quando abbiamo lavorato tutti diciamo le basi vado a bloccare con l'indice sempre il filo lo faccio passare in questo modo ecco qui prendo la prima solina che adesso mi sta sfuggendo ma comunque si si vede anche eccola qui passo l'uncinetto e vado a chiudere e abbiamo chiuso adesso come vedete si è formato le due le due stelline eccole qui le vedete in questo punto le due stelline e qui le due stelline e il laterale ora volto il lavoro nuovamente e vado a lavorare vedete qui ne abbiamo due adesso uno e due non abbiamo più tre ma ne abbiamo due adesso che cosa faccio vado a lavorare di nuovo la stessa sequenza per cui tiro il filo prendo il filo entro laterale vado 1 2 3 preso bene e 4 ok vado in quello successivo 1 2 3 e 4 blocco con l'indice faccio passare prima solina e vado a chiudere di nuovo prendo il filo faccio la stessa cosa che ho sempre fatto dall'inizio per cui entro sullo stesso punto e vado a fare 1 2 3 e 4 prendo il filo il filo vado in quello di base 1 2 cerchiamo di tenere sempre il filo a disposizione perché dopo ci tira un pochino 3 e 4 e andiamo a quello successivo 1 2 3 e 4 prendo il filo lo blocco sempre con l'indice faccio passare su tutte le asoline prendo il primo catenella e vado a chiudere adesso ce ne troviamo una vedete di volte il lavoro prendo sempre il filo e vado a tirare su un pochino e ripeto 1 2 3 e 4 vado in quello successivo 1 2 3 e 4 prendo il filo lo vado a bloccare con l'indice lo passo perché questa volta abbiamo terminato la base non ce l'abbiamo più per cui abbiamo concluso e vado a realizzare eccolo qui il nostro alberello è terminato ma noi qui possiamo fare direttamente delle catenelle 1 2 3 4 5 6 7 9 e 10 se volete inserire anche una perla e andare a chiudere con una maglia bassissima possiamo fare anche in questo modo e poi andiamo a tagliare maniera di poter realizzare subito per poterlo appendere come potete fare questo e mettere una una perlina una stellina insomma potete abbellire mettere anche delle perline insomma si possono fare tantissime cose allora adesso che ho passato senza prendere il filo dietro possibilmente abbiamo realizzato il nostro alberello eccolo qui questo poi dipende da come andiamo a tirare ecco siamo sistemiamo un pochino i punti e l'abbiamo terminato come facciamo a fare la base allora per fare la base per fare la base cosa facciamo prendiamo l'alberello andiamo proprio qui prendiamo al diciamo al centro della base in questo modo ci dobbiamo comunque prendo sempre il filo e tolgo questo che da un pochino lo faccio passare e blocco il filo dietro lo vado a bloccare dietro e vado a fare i punti gli stessi 1 2 3 e 4 prendo il filo lo blocco lo faccio passare catenella e chiudo faccio la stessa cosa poi con quello al centro vedete al centro c'è il buchino 1 2 3 4 blocco sempre con l'indice lo faccio passare catenella e vado a chiudere e vado con quello successivo quindi prendo un pochino non è che c'è proprio una regola 1 2 3 e 4 tiro bene blocco faccio passare catenella e vado a chiudere blocco taglio e faccio passare il filo questo modo taglio e abbiamo fatto il nostro alberello allora adesso vado a fare tutti ovviamente le basi dell'alberello come vedete è super semplice da da realizzare facilissimo veramente molto facile qui ci possiamo mettere una perla poi ovviamente un fiocchetto possiamo metterci una stellina e veramente per decorare il nostro albero di natale un chiudipacco anche mettere delle piccole di piccoli strass qui al centro oppure cucire delle perle oppure possiamo inserirle mentre lavoriamo le perle va benissimo anche quando andiamo a lavorarlo allora questa è un'idea carina un punto diverso in maniera di prendere confidenza anche con questo punto che poi faremo anche altri lavori con questo punto faremo cappelli anche delle delle sciarpe allora io vi ringrazio un tutorial oggi semplice ma un pochino di attenzione per quanto riguarda questo punto jasmine allora io vi saluto e ci vediamo ai prossimi tutorial baci